Benvenuti di nuovo a parte 2 di un episodio 6 di How smart are you in Sanio? I milanese sono un po' fulvi, intelligenti. Vediamo se riescono a rispondere a questa domanda. Cioè sei mio amico e mi hai prestato 100 euro e io ho rubato 500 euro da te. E poi con questo 500 euro banco nulla. Ti ho usato per pagarti i tuoi 100 euro e mi hai dato 400. Il resto, quanti hai perso? Vediamo chi riesce a rispondere a questa domanda intelligentemente. So, let's go poste. Ok, ragazzi, it seems that the people here in Milan are very intelligent, they are not stupid. So, we are going to ask a question. You are my friend and you borrowed me 100 euro. So, I steal 500 euro from you notes. And with this 500 euro, I paid you, I paid you your 100 euro. And you gave me 400 euro as a change. How much did you lose? How much did you lose? Let's see who would be able to answer this question correctly. Let's see how intelligent the people of Milan have. Let's go poste. Let's go poste. In this game, we are friends, right? I am your friend, and you gave me 100 euro. Then I gave you 500 euro for the bank. With this 500 euro, I paid you 100 euro for this money. e mi hai dato 400 euro di resto, quanto l'hai perso in totale? Io ti ho dato 100 euro. Sì, poi ho arrivato a 500 euro. Con questo a 500 euro... Ma non a me. Cosa? 500 euro. Tuo, è tuo. Io ti do 100 euro a te. Sì. Non puoi rubarmi 500 euro. No, non hai capito, guarda. Io sono tua amica. Mi hai prestato 100 euro. E io ho rubato tu a 500 euro banconota. È tuo. Poi con questo a 500 euro, ho pagato 500 euro e mi hai dato 400 euro indietro. Quanto l'hai perso in totale? 500. Come? Lo stile è il giochino. Come? Come incrediamente... Sì, sì, sì. Ho messo smenato? Sì, che è 500 euro. Ma cosa è scemo? Sei scemo? Non ho capito. Lei ha perso 500 euro perché sei scemo. In che senso? Che non eri attenta a qualcosa così? Una roba del genere, bravo. Che qualcuno ti ha rubato 500 euro banconota, no? Che tu sei stata furba. Ha rubato 500 euro? No, no, rubato 500 euro banconota, sono stati qui di noi, io che ho perso. Va bene. Ok, la prossima. Dove posso trovare il Colosseo di Milano? È qui a Porta Garibaldi o a centrale? Non esiste il Colosseo. Come l'hai? Che è a Roma. A Roma? Ma qualcuno ha detto che è qui? Il Colosseo. Di Milano. Se ne fa così. Solo uno. Solo uno. Va bene. Grazie per l'informazione. E l'ultima domanda è, 60 secondi fa un minuto, 60 minuti fa un'ora. Quanti centesimi fanno un euro? Quanti centesimi fanno un euro? Sì. Sicuro? Sì. Un centesimo, sono 10 centesimi. Sì. Un centesimo, 10 centesimo, sei. 10 volte. Ah, moltiplicalo. Ok. Va bene, grazie maestro. Dammi 5. Ah, ah, grazie. Ok, la domanda è questa. Per questo gioco siamo amici. E tu sei un mio amico, mi hai prestato 100 euro. E io ti ho rubato 500 euro banconota. Con questo 500 euro, ti ho ripagato il tuo cento euro che mi avevi prestato. In totale, quanto hai preso? 600 euro. Ah? 600. Come? Il 500 l'hai preso, il 100 me l'ho prestata. Ho usato questo 500 euro, ha pagato il tuo cento euro. E come fai per pagare? Devo dare altri 400 euro di resto. Sì. Per cui, praticamente, io ci ho rimesso il tuo cento euro. Quanto hai preso? Hai detto che mi hai prestato il mio, ti ho preso il 100 euro. E io... Poi me lo restituisci, però sono sempre le mie. Sì. Per quanto l'hai preso? Ho perso il 100 me l'hai preso. 1000 euro. Wow. Dove posso trovare il Colosseo di Milano? La divisione, c'è là. Centrale o qui a Paglia d'Agrado? Di Roma. Dove posso trovare? Di Roma. Solo Roma. Qualcuno mi ha detto che c'è uno qui a Milano. 60 secondi fa un minuto. 60 minuti fa un'ora. Quanti centesimi fanno un euro? 100. Come? 100 centesimi fanno un euro. Come mai? Sei sicuro? Sì. E spiegami come? Sì. Un euro è diviso in 100. 100 diviso in 100 è un euro. Grazie. Fanno i 5. Grazie. Ok. Dove posso trovare il Colosseo di Milano? Centrale o qui a Paglia d'Agrado? Garivaldi. Eh? Garivaldi. Puoi parlare un po' più forte perché non si sente? Dove? Garivaldi. Dove qui a Garibaldi? Che mio abito? Dove abito? No! Colosseo di Milano. Non lo sai cosa è un Colosseo. Va bene, la prossima. 60 secondi fa un minuto. 60 minuti fa un'ora. Quanti centesimi fanno un euro? 100 centesimi fanno un euro. Capito. Ah, vuoi? Non lo so. Va bene, l'ultima domanda è... E questo gioco sei un mio amico, no? E mi hai prestato 100 euro. E poi io ti ho rubato 500 euro il banco nuca. Con questo 500 euro ti ho pagato 200 euro e mi hai dato 400 euro come resto. Quanto hai perso? Oh, non ho capito. Ripetito. Guarda. Vuoi che usa inglese? Sì. Ok, tu è il mio amico. E tu mi hai prestato 100 euro. 100 euro. E io ho pagato 500 euro per me. Nose. 500 euro notes. Con questo 500 euro, io ti ho pagato 100 euro che ti ho pagato 100 euro che ti ho pagato 400 euro per cambiare. Sì, in total, quanto ti ho pagato? Quanto ti ho pagato? Quanto ti ho pagato? Quanto ti ho pagato? 550 euro. Come? Perché ti ho pagato 500 euro? Non, 100 euro. 100 euro. E io ho pagato 500 euro. Sì. Io ho pagato 600 euro. Come? Perché 100 euro che ti ho pagato 100 euro. Ho pagato 200 euro. Con 500 euro che ti ho pagato. E tu ho pagato 400 euro. Sì. Quindi ti ho pagato 600 euro. Sì, in total, abbiamo pagato 500 euro. Sì? Perché 100 euro che ti ho pagato. Ok? No, 500 storie. 500 storie. 100... 600. 600. All right, thank you. All right. In questo gioco siamo amici e mi hai prestato 100 euro io ti ho rubato mi hai prestato 100 euro io ti ho rubato 500 euro banconota ok da questo 500 euro con questo 500 euro ti ho dato per pagarti 100 euro che mi avevi prestato mi hai dato 400 e dietro come il resto quindi in totale quanto hai perso? Ho sempre perso 600 euro perché comunque me li hai rubati No, 500 euro che ho rubato con questo 500 euro ho pagato quanto hai perso che mi avevi prestato e mi hai dato 400 euro in giro quanto hai perso in totale? Pessati Ti ho prestato 100 tu hai perso... mi hai rubato 500 Si con questo 500 euro ti ho pagato quanto? 500 devi essere sicuro come? come 500 euro? 500 cosa ti devo dire? 500 euro come 500 euro? come l'hai perso? dimmi come come può essere 500 euro? non ho capito poi spiegami che l'hai perso 500 euro come l'hai perso? hai perso 500 euro in totale come? me l'hai rubato e quello che ti ho rubato che l'hai perso? altri siamo pari ok la prossima dove posso trovarmi Colosseo di Milano? Porta Garibaldi o Centrale? no Colosseo di Milano non lo so non lo so non sono di Milano scusate ma quale sei esiste qui in Milano? infatti non c'è è a Roma è a Roma? solo a Roma? io sappia si poi non so se 60 secondi fa un minuto 60 minuti fa un'ora quanti centesimi fanno un euro? come il vento? quanti? quanti? cento? grazie vai che figura di merda ok ragazzi abbiamo finito per questo episodio 6 di How smart are you with Sandra? quindi lo sai cosa dovete fare? dare un mi piace a questo video iscriviti al mio canale youtube commentate cosa pensate di questo episodio? avete qualche suggestione qualche opinione qualcosa una domanda molto divertente che volete che chieda al pubblico andate sotto dove puoi commentare commenti come voi cosa pensi? dammi un assaggerimento così continua il divertimento ok ragazzi ok ragazzi siamo finiti siamo finiti questo episodio 6 di How smart are you with Sandra ok all you need to do now is give it a thumbs up subscribe to my youtube Shannon comment what you think about this episode and see you next time I love you I love you thank you very much see you next time on How smart episode 7 of How smart are you with Sandra? bye bye muah bye 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 ciao